Ben trovati, sono il dottor Michele Labianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al primo febbraio, già diffusi dal bollettino della Regione, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate della Regione Basilicata è stato processato un numero di 1.123 tamponi per un totale complessivo di 211.283 tamponi molecolari effettuati dall'inizio dell'epidemia, ai quali si aggiungono 2.427 test antigenici rapidi effettuati alla data della rilevazione. Per quanto riguarda i test molecolari, le positività totali riscontrate sono state 63 e di queste 54 in residenti, una in non residente ma domiciliato in Basilicata ed ulteriori 8 positività in soggetti in isolamento in altre regioni. Il totale dei positivi nelle due giornate prese in esame vede una prevalenza di soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile, con un'età media di 45 anni per entrambi i sessi. Tra i positivi della giornata prese in esame si riduce lievemente a 15 la percentuale dei soggetti nella fascia di età 0-20 anni, sempre più rappresentata al 63% la fascia d'età tra i 21 e i 64 anni, mentre si riduce ulteriormente al 22% l'interessamento degli ultra 65 anni. I principali indicatori danno la seguente situazione. La percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi sette giorni nella regione si riduce al 2,7%, percentuale inferiore al dato nazionale che del 3,4%. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati, che testimonia la circolazione del virus su territorio regionale, è del 4,8%. In sintesi, il numero dei casi nella regione tende a diminuire, mentre l'incidenza, cioè le nuove positività per Covid-19 per 100.000 abitanti, riferite alle ultime due settimane, rimane alta, 140 casi positivi su 100.000 abitanti. Comunque notevolmente al di sotto della positività nella media nazionale, che è di 289 casi su 100.000 abitanti. Per quanto riguarda l'indice di contagio RT, riferito all'ultima settimana, è pari a 0,9%, è comunque inferiore al valore limite di 1% e in linea col dato nazionale. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella regione, Basilicata, 42 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 7 interessano il capoluogo. I rimanenti 35 sono distribuiti in 17 comuni della provincia. 12 positività sono attribuite alla provincia di Matera e di queste 8 interessano la città di Matera. I rimanenti 4 sono distribuite in 3 comuni della provincia. Anche per il bollettino odierno le positività sono dovute a presenza di focolai sul territorio, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. Si osserva anche un piccolo focolaio nel comune di Matera relativo a casi di Covid in lavoratori. Al momento non sono stati segnalati casi in nuove residenze sanitarie per anziani, nelle quali comunque si verifica il costante monitoraggio delle strutture già a sede di focolaio da parte delle aziende sanitarie territorialmente competenti. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane Covid dedicate di 74 pazienti, mentre il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva è complessivamente di due pazienti entrambi ricoverati a Potenza. Si mantiene nella regione la riduzione del tasso d'occupazione dei posti letto, specie in quelli in terapia intensiva, al di sotto dei livelli di guardia. I guariti nella giornata esaminata sono 19, ai quali si aggiungono ulteriori 1.129 guarigioni. A questo proposito è in corso verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della regione Basilicata e dell'Istituto Superiore di Sanità e Protezione Civile. Pertanto si registrano con il bollettino odierno 1.129 guarigioni relative al periodo antecedente. Si tratta di soggetti già dichiarati guariti nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali da parte dei servizi delle aziende sanitarie territorialmente competenti. A queste 1.129 guarigioni, dovute a riallineamento, si sommano le 19 guarigioni odierne per un totale di 1.148 soggetti guariti nella giornata presa in esame, che porta così il numero complessivo dei guariti residenti a 8.612 soggetti. I positivi totali residenti sono 3.976, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 3.902. Prosegue la revisione degli ultimi dati menzionati da parte dei competenti servizi ospedalieri e territoriali. Nella giornata esaminata non sono stati registrati decessi, per cui il totale dei deceduti residenti per Covid-19 rimane pari a 316 soggetti. Si ribadisce che da puntuale verifica effettuate al 24 gennaio, in ciascuno dei 131 comuni della regione, 77 sono sede di focolaio attivo di Covid-19, con un numero cioè di almeno due positività e con un numero complessivo di 2.863 soggetti positivi attivi sul territorio regionale. E di questi focolai 62 focolai attivi nella provincia di Potenza e 15 nella provincia di Matera. È in corso ulteriore verifica che sarà fornita all'Istituto Superiore di Sanità nel report settimanale. In base a quanto descritto, per positività dei tamponi eseguiti e per ricoveri ospedalieri, la curva dei contagi in Basilicata sembra essere in lenta discesa, anche se potenzialmente vi sono possibilità che la situazione possa rapidamente evolvere verso un rapido aumento dei casi, a livelli potenzialmente superiori alla situazione attuale. Questo miglioramento è il risultato delle misure prese nell'ultimo mese, per cui bisogna continuare a mantenere un comportamento prudente per cercare di arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.